A voi tutti ben ritrovati amici di Retta 7. Ecco il vortice di bassa pressione, la perturbazione per intenderci che ha coinvolto nelle ultime ore il centro, il sud, ma sfila velocemente sempre più verso est, quindi si allontana dalla nostra perisola, si allontana da noi ancora a bel tempo anche se con delle nuvole medio-alte, nuvole comunque innocue, quindi anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da tempo tranquillo. Qualche nuvole in più rispetto alla giornata di venerdì, ma nuvole come detto innocue, quindi nel complesso bel tempo. Tra l'altro in quota quindi sui rilievi appenninici, sui rilievi alpini, sui monti, avremo un netto rialzo, seppur temporaneo, proprio soltanto nella giornata di sabato, un netto rialzo delle temperature. Al suolo invece il rialzo sarà un po' più contenuto, vedete infatti i valori minimi saranno comunque gelidi, valori negativi anche attorno ai meno 1 o meno 4 gradi centigradi. È tutto cari amici, buon proseguimento di weekend, arrivederci.